Ha chiuso il padre in una stanza minacciandolo con un coltello. Lo ha poi massacrato di botte perché l'anziano genitore non voleva consegnargli soldi per la droga. È stato così arrestato dalla squadra volanti della questura di Sernia, un uomo di 45 anni, tossico dipendente, pluripregiudicato, già in cura da tempo al CERT. È stata la madre terrorizzata a chiamare il centralino della questura chiedendo l'intervento immediato della volante. Quando i poliziotti sono giunti nell'appartamento in una strada al centro di Sernia hanno trovato il pensionato con il volto tumefatto ricoperto da una maschera di sangue. Ha indicato agli agenti il responsabile dell'aggressione, il figlio 45enne che viveva in casa con lui. L'aggressore è stato bloccato non senza fatica dai poliziotti che durante la perquisizione personale gli hanno trovato addosso un coltello a serramanico con una lama di 15 centimetri. L'anziano genitore è stato accompagnato al pronto soccorso del Veneziale per medicare le ferite. Ha rimediato un mese di prognosi. Successivamente gli agenti lo hanno accompagnato in questura dove ha formalizzato la denuncia nei confronti del figlio, aggiungendo che spesso in passato il 45enne aveva aggredito, picchiato, minacciato di morte lui e la moglie perché avevano rifiutato di consegnargli soldi per la droga. Dopo le formalità di rito il tossico dipendente, d'intesa con il pubblico ministero Gaeta, è stato accompagnato nel carcere di Ponte San Leonardo dalla polizia. Una vicenda orribile causata dalla droga che ha portato all'autodistruzione del protagonista e ha dimani sofferenze per i familiari.